Bentornati a tutti cari guardiani, qui è GVG, ora vi faccio vedere l'ultima falena da recuperare, la decima, decima e ultima falena, bisogna entrare, bisogna fare o questa missione qui, oppure questa, altare della riflessione, e ce ne dovrebbe essere poi anche un'altra più avanti probabilmente, credo. Comunque bisogna andare oltre lo specchio, arrivare in fondo, abbattere tutti gli archivisti, che ci sono qua, prima di dove c'è il ricordo, per poter entrare dove c'è il suo ricordo, e vi accorgerete che in questa zona, lì sopra, ecco, c'è quel pallino lì, bisogna attivarlo, rivela, e lui ci apre la strada verso l'ultima e decima falena, che è lì sopra, eccola qua, e quindi raccogliamola. Bene, guardiani, finiamo di addobbare la caverna, è ora di mettere tutte le falene, ne ho messe due, poi ho deciso di farlo invece, c'è ma voi, quando le avevo raccolte tutte, quindi procediamo. Una è qua, altra lì, Sono carine, hanno la faccia pucciosa, proprio. Ok, ancora queste. E l'ultima. Guarda che carina. Questa, ah no, ce n'è ancora una. Ok. Adesso le abbiamo messe tutte. E questa è stata fatta, questo trionfo. Andiamo a vedere. Dovrebbe essere qua. Esatto. L'epidotterologo. Completo. Vabbè, quello è tutto da leggere, lo faremo poi. Va bene ragazzi, qui concludiamo con la nostra bellissima caverna addobbata, abbiamo dato un po' di colore, effettivamente. E quindi, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.